Ciao a tutti, qui da Minsk, in diretta la ginastica ritmica. Allora, sono Alexandra Giurgiuculese e niente, volevo un po' raccontarvi come è andata la mia gara. Allora, ho fatto un all-around ieri appunto, dove ho fatto degli ottimi quattro attrezzi. Sono molto contenta delle mie prestazioni e nulla, mi sono guadagnata un ottimo quarto posto. E così mi sono qualificata oggi per tutte e quattro le finali, dove invece non è andata molto bene. Ma è sempre un'esperienza e ovviamente dagli errori si impara. Quindi, sì, insomma, diciamo che oggi al cerchio ho fatto un errorino, proprio l'ho scalciato fuori pedana. E poi alla palla invece ho fatto un piccolo errore perché mi è scivolata dalla mano. Dopodiché ho fatto delle ottime clavette e invece il nastro, diciamo che scivolavo molto e non sono riuscita a tenere abbastanza sotto controllo la situazione. Ma, insomma, questo è. E niente, sono molto soddisfatta di questa esperienza. È stata un'esperienza veramente unica e indimenticabile. La finale di oggi, sia quella individuale che quella di squadra, era sicuramente una gara molto, molto agguerrita. E Alexandra è stata fallosa in alcuni esercizi. Peccato perché veramente è entrata molto determinata, molto pulita, molto chiaro quello che stava proponendo. Ed è in corsa, soprattutto nel cerchio, nel primo esercizio, un brutto fallo esecutivo che, insomma, un pochino l'ha destabilizzata. Come avrete notato, ho avuto due nuovi body, uno alla palla, nuovo, e uno al nastro, altrettanto nuovo. Ed erano bellissimi, insomma, molto carini. E volevo anche dirvi che oggi al nastro, in realtà, è successo un piccolo, come si dice, errorino, diciamo, di sistema. E' successo che, insomma, prima di entrare in pedana non mi sono bagnata le mezze perché, appunto, era veramente un disastro, anche avevo il nastro in mano. Non dovevo bagnermi le mani, ma dovevo bagnermi il piede. Quindi tutto questo ambaradam, diciamo, che mi ha fatto un po' uscire fuori di testa. E quindi ho fatto un esercizio dove, come avete notato, ho fatto altro che il ginastica di nuca, ma ben patinaggio ritmico. E nulla, poi volevo anche dirvi che il villaggio è bellissimo. Cioè, vedere tutti gli sport, che comunque, tutti gli esseri umani, perché di tutti gli sport, di tutti i paesi che ti camminano accanto, insomma, che andiamo a mangiare insieme, che passiamo del tempo insieme, è una cosa veramente stupenda. E questa è solamente la mia seconda volta nella vita dove, appunto, sono in un villaggio. Ed è veramente un'emozione unica. Volevo ringraziare di cuore la mia allenatrice, Spera Dragas, che mi ha accompagnata in pedana, mi ha, insomma, aiutata. E veramente la ringrazio di cuore. Dopodiché ringrazio tanto anche le altre mie due allenatrici, una coreografa e una allenatrice, Magda Pegano e Laura Ammiotti. Dopodiché ringrazio la federazione, l'aeronautica militare, la mia società, l'associazione sportiva ordinese. E ringrazio molto anche le tecniche Emanuele Maccarani, anche a Renani Prandi. E tutte le fan. Insomma, ringrazio tutti, tutti, tutti. E volevo fare un grandissimo in bocca al lupo. E forza farfalle! Grazie!